11 gennaio 1966 Il primo ministro Dal Bahadur Shastri morì per un attacco di cuore durante una visita in Russia. Il primo ministro aveva conosciuto personalmente Srila Prabhupada in India ed era un ammiratore delle sue traduzioni dello Srimad Bhagavatam. Avrebbe dovuto recarsi in visita in America e Prabhupada aveva sperato di ottenere da lui personalmente un'autorizzazione per l'invio di fondi dall'India. La sua morte prematura fu un grave colpo per i piani di Srila Prabhupada di acquistare l'edificio al 143 della 72esima strada ovest. La gente immobiliare gli aveva già fatto visitare il palazzo e lui aveva già pianificato mentalmente gli interni per l'adorazione delle divinità e per la distribuzione di Prasadham. Il denaro doveva arrivare dall'India e il primo ministro Shastri doveva dare personalmente l'autorizzazione per l'invio dei fondi ma improvvisamente tutto era cambiato. 14 gennaio Prabhupada decise di scrivere al proprietario dell'edificio il signor A. M. Hartman spiegò che i suoi piani erano stati sconvolti e propose un nuovo piano. Ora il primo ministro, il signor Lal Bahadur Shastri è mancato improvvisamente e io mi trovo in una situazione davvero difficile. Poiché ora è diventato un vero problema far arrivare il denaro dall'India le chiedo di permettermi di usare questo palazzo per l'istituzione internazionale per la coscienza di Dio almeno per qualche tempo. L'edificio è vuoto da molti giorni e non viene usato e ho saputo che lei paga le tasse, l'assicurazione e altre spese anche senza ricavarne nulla. Se lei concedesse l'uso di questo palazzo per un'istituzione pubblica almeno risparmierebbe le spese che ora sta pagando a vuoto. Se potessi cominciare immediatamente questa istituzione raccoglierei certamente molti sostenitori e allora forse non sarebbe più necessario far arrivare il denaro dall'India. Le chiedo anche di onorarci diventando uno dei direttori di questa istituzione per averci dato il posto dove fondarla. Il signor A. M. Hartman non era interessato. Nello stesso giorno in cui aveva scritto al signor Hartman Prabhupada ricevette una lettera da Sir Padampath Singhanya il direttore della grandissima JK Organization in India. Prabhupada aveva scritto a Sir Padampath G. per chiedergli un sostegno finanziario e la sua risposta gli aveva dato qualche speranza. La famiglia Singhanya non era soltanto favolosamente ricca ma tutti i suoi componenti erano devoti di Krishna. Mio caro Svamiji ho ricevuto la sua lettera sono molto lieto di sentire la sua idea di erigere un tempio a Sri Radha Krishna a New York. Credo che la proposta sia buona ma ci sono delle difficoltà. Uno per costruire il tempio dovremmo inviare della valuta straniera valuta straniera e per questo c'è bisogno dell'autorizzazione governativa. Senza il benestare del governo non si può esportare valuta. Valuta. Se il governo dell'India è d'accordo potremo pensare a costruire un tempio a New York. Due. Dubito che la modica cifra di 7 lakh di rupie 110.000 dollari americani possa permettere di costruire un tempio a New York. Io intendo realizzare una bella costruzione con un'architettura di tipo indiano e per completare un tempio di architettura indiana dobbiamo mandare un uomo dall'India. Queste sono le due grosse difficoltà altrimenti la sua idea è magnifica. Srila Prabhupada e il signor Singhania avevano due punti di vista completamente diversi. Un magnifico tempio indiano a New York sarebbe costato molti milioni di dollari solo di costruzione. Certamente Prabhupada sapeva che Padampat Singhania poteva procurare milioni di dollari se voleva ma in che modo avrebbero potuto far uscire tanto denaro dall'India? Prabhupada tornò dunque a suggerire che si potevano spendere solo 7 lakh. Dopo aver acquistato l'edificio scrisse potremmo costruirci sopra un altro piano con una bella cupola il chakra e tutto il resto. Prabhupada aveva la sua logica. Il signore Dvarakdish manifestò la sua opulenza a Dvaraka con 16.000 regine e sappiamo che fece costruire un palazzo per ognuna di esse. Inoltre i palazzi erano costruiti di gemme e pietre preziose tanto da non aver bisogno di luce artificiale. Per questo la sua concezione del tempio di Shri Krishna è naturalmente molto opulenta ma noi siamo abitanti di Vrindavana e a Vrindavana non ci sono palazzi come nella vostra Dvaraka. Vrindavana è piena di foreste e di mucche sulle rive della Yamuna e Shri Krishna recita la parte di un pastorello senza traccia di quell'opulenza regale a cui siete abituati voi abitanti di Dvaraka. Tuttavia quando i Dvaraka Vala incontrano i Vrindavan Vala si può trovare una via di mezzo. Con la ricchezza di Sir Padampat caratteristica di Dvaraka e la devozione di Shri la Prabhupada tipica di Vrindavana Shri Krishna il signore di Vrindavana e di Dvaraka poteva essere adorato adeguatamente. 21 gennaio arrivò la risposta di Bon Maharaj due settimane prima. Prabhupada aveva scritto al suo confratello direttore dell'istituto di filosofia orientale di Vrindavana dicendo che aveva trovato un luogo adatto per aprire un tempio a New York e che voleva installare le divinità di Radha e Krishna. Nella sua risposta Bon Maharaj dava i prezzi indicativi per le divinità di Radha Krishna in ottone alte 35 centimetri ma avvertiva anche che dare inizio all'adorazione delle divinità sarebbe stata una grossa responsabilità. Shri La Prabhupada rispose penso che una volta aperto il tempio si potranno trovare degli uomini anche americani come ho visto alla missione Rama Krishna e anche in molte associazioni di yoga quindi sto cercando di aprire un tempio qui come voleva Shri La Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada chiese a Bon Maharaj anche di assisterlo nell'ottenere l'autorizzazione del governo per esportare il denaro che avrebbe donato Padampat Singhanya. Disse che aveva una fitta corrispondenza personale con il vicepresidente dell'India il dottor Radha Krishna che conosceva anche Bon Maharaj. Ditegli che non si tratta di un comune tempio di adorazione ma di un'istituzione internazionale per la coscienza di Dio basata sullo Sriman Bhagavatam. 22 gennaio Mentre Shri La Prabhupada pregava di poter ricevere Radha Krishna a New York la città fu sommersa da una tempesta di neve. Quella mattina Shri La Prabhupada che forse non aveva mai visto la neve in vita sua svegliandosi pensò che qualcuno avesse dipinto di bianco la facciata dell'edificio accanto. Soltanto quando uscì di casa scoprì che era neve. La temperatura era di 10 gradi Fahrenheit. In città fu dichiarata l'emergenza ma Prabhupada continuò a fare le sue passeggiate giornaliere. Ora doveva camminare sotto la neve fitta con un dotis sottile sotto il cappotto e in testa il suo cappello da svami. Le strade principali furono sgombrate ma molte strade secondarie erano coperte di neve. Lungo la sottile striscia di parco che divide Broadway le raffiche di vento formavano cumuli di neve alti fino alla spalla seppellendo le panchine. I chioschi di Broadway tappezzati con strati di manifesti e avvisi portavano ora uno strato in più fatto di neve e ghiaccio ma nonostante l'inclemenza del tempo gli abitanti di New York continuavano a portare a passeggio i cani che ora indossavano cappottini e impermeabili. Tante premure da parte dei proprietari dei cani ispiravano a Prabhupada un senso di divertita sorpresa. Avvicinandosi alla West End Avenue vedeva che i portieri soffiavano nei fischietti per chiamare i taxi come al solito ma spargevano sale per sciogliere il ghiaccio e per aprire passaggi sicuri davanti ai palazzi. A Riverside Park le panchine i sentieri e gli alberi erano coperti da una patina di ghiaccio e riflettevano scintillando il cielo. Al notiziario gli ufficiali del servizio scelto annunciavano il primo tangibile aumento delle leve dai tempi della guerra di Corea. Un periodo di pace che era durato un mese aveva avuto fine con il bombardamento del Vietnam del Nord da parte dell'aviazione degli Stati Uniti. Lo sciopero dei trasporti a New York era finito dopo tre settimane e il capo del sindacato dei trasportatori era morto in prigione per un attacco cardiaco. Il 30 gennaio la costa orientale fu spazzata da una violenta bufera. Sulla città caddero 18 cm di neve e il vento soffiava a una velocità di 80 km orari. Il comune di New York offrì bastanze pasticaldi a quelli che vivevano in case prive di riscaldamento. L'aeroporto John Fitzgerald Kennedy era chiuso come le linee ferroviare e le autostrade che portavano in città. Per la seconda volta in otto giorni fu dichiarato lo stato di emergenza a causa della neve. Come semplice individuo Srila Prabhupada non poteva far nulla per lo stato di emergenza contro la neve o per il conflitto internazionale di cui aveva letto nei titoli dei giornali. Li considerava soltanto segni dell'età di Kali. Ci sarebbe sempre stata sofferenza nel mondo materiale ma se avesse potuto portare Radha e Krishna in un palazzo di New York niente era impossibile per il Signore Supremo perfino nel mezzo del Kali Yuga sarebbe potuta apparire una nuova età del loro e la gente avrebbe avuto sollievo. Se gli americani avessero adottato la coscienza di Krishna il mondo intero li avrebbe seguiti. Guardando attraverso gli occhi delle scritture Srila Prabhupada si spingeva avanti nella bufera e seguiva la pista sottile per sostenere la sua missione della coscienza di Krishna. 4 febbraio scrisse di nuovo a Tirta Maharaj che aveva accettato di interessarsi all'autorizzazione governativa se avesse ricevuto la conferma scritta di un donatore responsabile disposto a fornire fondi per il Tempio. Prabhupada lo informò che il donatore sarebbe stato Sir Padampat Singanyu e gli mandò anche l'incoraggiante lettera del 14 del Signor Singanyu. Prabhupada ricordò al suo confratello Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta voleva aprire tempi nelle città straniere come New York Londra Tokyo e altre. Ne ho parlato personalmente con lui quando lo incontrai per la prima volta a Ultadanga nel 1922. Ora mi si presenta la possibilità di realizzare il suo ordine trascendentale sto soltanto cercando la tua misericordia e il tuo favore per raggiungere il successo in questo tentativo. 5 febbraio i piani che Srila Prabhupada aveva costruito attorno alla promessa di aiuti da parte di Padampat Singanyu cominciavano a crollare. Lodvarak Vala scrisse per esprimere la sua insoddisfazione nei riguardi dell'edificio della 72esima strada. Temo di non essere d'accordo con il suo suggerimento di acquistare un piccolo edificio e costruirvi sopra qualcosa. purtroppo questo genere di proposte non è adatto alla mia personalità. Il tempio potrà anche essere piccolo ma dovrà essere costruito in modo adeguato. Sono d'accordo sul fatto che in questo momento lei non possa spendere molto denaro ma nelle possibilità della somma approvata dal governo lei dovrebbe costruire un edificio che sia conforme all'architettura dei tempi indiani. Allora soltanto potremmo colpire l'attenzione degli americani questo è tutto ciò che posso comunicare al proposito le sono molto riconoscente per essersi preso il disturbo di scrivermi. Prabhupada non considerò questa lettera come l'ultima decisione continuava a nutrire la speranza che Sri Padampad si ingagna avrebbe donato i fondi per il tempio se soltanto fosse stato possibile organizzare il trasferimento dei fondi. continuò a scrivere ai suoi confratelli e ad altri devoti chiedendo loro di aiutarlo a ottenere l'autorizzazione dal governo. Aveva sempre le stesse aspirazioni anche se l'unico possibile donatore aveva respinto il progetto del chakra della cupola sopra un normale edificio a due piani. Jai Shrila Prabhupada chi Jai di aiutare di aiutare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.